Ma le avete mai fatte le melanzane fritte con la cipolla di tropea? Fatele con me e ve ne innamorerete. Iniziamo! Dopo aver lavato ed asciugato le melanzane rimuovo le estremità, le taglio a pezzettoni, poi le metto in uno scolapassa con un piatto sotto, metto il sale su ogni strato e poi metto un peso sopra e le lascio spurgare per almeno un'ora in modo da togliere l'amaro delle melanzane. Passato un'ora le metto in un canovaccio ed asciugo tamponandole, poi ne friggo un po' alla volta in olio abbondante ed una volta dorate le metto in un contenitore con carta assorbente. Una volta fritte tutte metto un filo d'olio in padella, aggiungo la cipolla di tropea tagliata a pezzetti piuttosto piccoli, dopo un minuto metto le melanzane, poi il concentrato doppio di pomodoro e faccio cuocere per 3-4 minuti mescolando spesso. A fine cottura assaggio e regolo eventualmente di sale, foglie di basilico ed eccole qui, che delizia! Buon appetito! Melanzane gratinate con i pomodorini. Per prima cosa taglio i pomodorini, li metto in una ciotolina, aggiungo un po' di salsa di pomodoro, regolo di sale, metto l'aglio, mescolo e metto da parte, poi in un'altra ciotola metto il pangrattato, il parmigiano, mescolo e tengo da parte, a questo punto taglio le melanzane a fettine spesse circa un centimetro e mezzo, le incido con la punta di un coltello, metto su ognuna un pizzico di sale, poi ungo il fondo di una teglia capiente, dispongo le melanzane facendo sì che tutte tocchino il fondo, metto su ognuna i pomodorini con la salsa, poi copro con il pangrattato e il parmigiano, filo d'olio e faccio cuocere a 180 gradi in forno statico per 30 minuti, dopo 30 minuti passo 2-3 minuti sotto al grill ed eccole qui, buon appetito! Frittata di melanzane a modo mio! Taglio le melanzane a pezzetti, poi metto l'olio in padella, metto le melanzane e le faccio cuocere finché saranno dorate, una volta dorate metto uno spicchio d'aglio, aggiungo la salsa di pomodoro, regolo di sale e a fiamma bassa faccio cuocere per una decina di minuti, poi tolgo l'aglio, spengo e faccio intiepidire, nel frattempo rompo le uova, regolo di sale, aggiungo il parmigiano, il formaggio morbido a pezzetti, le melanzane, le foglie di basilico, mescolo, poi metto l'olio in padella e quando sarà caldo verso il composto di uova e melanzane sistemo, copro e faccio cuocere per 20 minuti, poi giro la frittata e senza coprire faccio cuocere per altri 5-6 minuti, dopodiché la tolgo e la metto su carta assorbente, asciugo tamponando ed eccola qui, è come se stessi mangiando la parmigiana, buon appetito, melanzane spaccatelle in padella, ma quanto sono buone, fatele con me, iniziamo, per prima cosa metto l'olio in padella, poi metto l'aglio ed una volta dorato spengo momentaneamente la fiamma e quando l'olio si sarà un po' intiepidito metto la passata di pomodoro, dopodiché riaccendo, regolo di sale e faccio cuocere per 10-12 minuti senza coprire, ci serve un sughetto denso, nel frattempo taglio le melanzane a fette lunghe speste circa un centimetro, poi le incido di lungo, le incido in diagonale, metto l'olio in una padella o in un tegame capiente, aggiungo le melanzane e le faccio cuocere circa 5 minuti per lato, poi metto il sale su ognuna, schiaccio un po' ogni melanzana con il cucchiaio, aggiungo il sughetto su ognuna, la mozzarella tagliata a julienne, poi copro e faccio cuocere per 4-5 minuti, ed eccole qui, ci metto qualche foglia di basilico e poi le assaggio con voi, che bontà, mamma mia.